territorio infrastrutture e paesaggio sono state queste le tre parole chiave dell'ultimo ciclo di incontri in ordine di tempo messi in cantiere da step la scuola per il governo del territorio e del paesaggio dopo un primo ciclo dedicato ai fondamenti del concetto di paesaggio tra teoria e pratica e un secondo dedicato alla pianificazione strategica questo terzo ciclo ha voluto porre l'accento su un tema che sta particolarmente a cuore all'amministrazione provinciale trentina il governo del territorio e del paesaggio non risiede esclusivamente in un problema dimensionale quanto nella qualità e nell'intensità delle relazioni che ogni progetto è in grado di stabilire con la struttura dei luoghi le sedimentazioni storico culturali e i supporti fisici e geografici gli incontri sono iniziati lo scorso ottobre con il geografo giuseppe de matteis dell'università di torino che ha tenuto una relazione sul tema geografia e paesaggio spazi economia e culture nei sistemi territoriali alpini grazie a tutti il 3 novembre è stata la volta di antonio de rossi professore di progettazione architettonica e urbana al politecnico di torino che ha trattato di problemi della grande scala nel progetto di territorio grazie a tutti l'ultimo incontro del ciclo ha avuto per protagonista l'architetto svizzero aurelio galfetti docente all'accademia di mendrisio che ha esplorato la relazione tra infrastruttura e paesaggio io vorrei cercare di far passare l'idea o meglio di descrivere il ruolo dell'architetto quando lavora sulle infrastrutture o per la viabilità qual è il suo ruolo il suo ruolo non è quello di abbellire il lavoro fatto dagli altri non è quello di abbellire la viabilità fatta dagli ingegneri o dagli specialisti ma è quella di assieme ai gruppi interdisciplinari di progettare lo spazio della viabilità e delle infrastrutture l'architetto è colui che progetta disegna lo spazio è lo specialista dello spazio quindi ecco il senso è questo il senso della descrizione di questa serie è quello il mio lavoro è sempre stato quello la problematica principale dell'inserimento di un'infrastruttura nel territorio riguarda la visione che l'intera comunità deve avere rispetto all'esigenza di mobilità se viviamo l'esigenza di un'abitazione come esigenza primaria l'esigenza di mobilità è altrettanto primaria per le connessioni, i servizi, per lo sviluppo ma soprattutto per la permanenza sul territorio della popolazione vivere la realizzazione di una nuova infrastruttura che favorisce questi elementi come un elemento di tensione sociale è sbagliato vivere invece un elemento di attenzione per la permanenza di questa infrastruttura sul tempo e negli anni è un elemento di fondamentale importanza e quindi è giusto un confronto, è giusto l'approfondimento è giusto fare la scelta che si ritiene più adatta ma con la coscienza che un'infrastruttura comunque è una ferita che sul territorio rimane indelebile e con la coscienza che questa ferita comunque va a curare altri problemi grazie a tutti